Nuovo ambiente, ecco una bella fumarola, è un'altra sta più avanti, quella non è il legno che brucia, e questa è poco distante da quella là, no, che giriamo, sempre nuova ambiente, una bella folata di fumo, aria sola allo stato puro. Masseria del Pozzo, nuovo ambiente, un po' fa, c'è un'altra fumarola, ecco qua come continuano le fumarole, e questa è un'altra bella fumarola, vedete? Una di qua e un'altra sta là. E sono tre in quest'area. Ed ecco un'altra fumarola, ce ne sono quasi dodici in quest'area. Immaginate tutte queste discariche, sono più di dodici, dove non viene captato il gas, e quindi si disperde nell'ambiente. È tutto Giuliano alla respira, e forse pure qualcun altro. Altre fumarole. E non è il legno che brucia. Un'altra sta di qua. Vedete? Questa è l'area vasta. Danneggia tutto e tre gli ambienti. Aria, acqua e suoli. E chiaramente immaginatevi tutta la popolazione che ci vive intorno, cosa deve subire. Me ne vergogno. Di re Цur Rab dopamine. Aaria, dentro del video del corso di calcio san goodbye. Che non bastaisy. Che, no cambiisco la pup admire Hillonia. Èquipełazi e bunoassenza. Ti e balances bene definitely conoscenza di calcio tonight Che, cheипala retail sitten?